Ciao a tutti, grazie a tutti, vi trovo con una bravissima attrice, Irene Ferri. Ciao ragazzi. Allora, a breve ci sarà questa serie tv. Il 9 marzo. Il 9 marzo, il 9 marzo. Il 9 marzo. Ecco, ricordiamo il tuo ruolo, qual è? Allora, io sono un commissario di polizia, sono un collega in Iran nel suo percorso, nel dipanare tutto questo mistero e sono un commissario di truffo perché ho una pancia di 8 mesi perché sono incinta e quindi è un commissario con pistola e pancia. Ecco, questo è anche un messaggio che diamo a tutti quanti. Che messaggio diamo? Le donne possono fare tutto anche se hanno la pancia di 8 mesi, sì, è vero. Non posso garantire, non per la fiction ma per la realtà. Ecco, c'è un messaggio positivo, oltre il resto, sorelle, perché? Cosa fanno queste sorelle? Beh, perché ci sono due sorelle e una non si trova, quindi non so, non posso dirvi più di tanto. E certo, allora, adesso scopritelo da soli e ricordiamo l'appuntamento giovedì 9 marzo su Rai1 in prima serata. Esattamente. Saludiamo tutti i prossimi fans futuri quasi presenti di sorelle. Di sorelle. Prossimi fans futuri di sorelle, fans e ciao. Ciao, grazie. Grazie.